Per fortuna solamente tanta paura e il risultato dell'episodio in mare registrato nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque antistanti lungomare monumentale Zara Giulianova, dove un'imbarcazione da di porto, un cabinato di circa 7 metri nuovo di fabbrica, ha iniziato ad imbarcare improvvisamente acqua dalla struttura dello scafo appena uscita dal porto. Sull'imbarcazione erano presenti quattro persone tra i quali due bambini in tenera età che di fronte alla situazione di pericolo si sono aggrappate alla zattera di salvataggio attivata subito dal papà nonché proprietario della barca in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Un evento importante che fortunatamente si è concluso con esito positivo sia per il recupero delle persone che erano a bordo, erano due adulti e due bambine, sia per il recupero dell'imbarcazione. Ovviamente ci sarà un'inchiesta per accertare cause e responsabilità e quindi verificare il motivo di questo evento che si è verificato, di questo affondamento. L'ipotesi più accreditata è quella di un cedimento di carattere strutturale, senza però scartare una possibile collisione con un corpo libero galleggiante. Le certezze si potranno avere solo dopo la perizia degli esperti. L'imbarcazione era appena un'unità di porto in realtà, messa in mare da poche settimane e il proprietario la stava portando insieme a un amico che appunto aveva la patente nautica al porto di San Benedetto dove aveva un posto barca. Sembrerebbe proprio che appena presa velocità, quindi circa 500 metri dall'imboccatura del porto Giulianova, andando verso nord, quindi dalla fanale verde, si sia proprio notato questo cedimento, almeno così è stato raccontato, dalla parte di Poppa e poi ovviamente da lì l'unità ha imbarcato acqua e quindi è stato veloce l'episodio di affondamento. È rimasta poi insieme i galleggiamenti e quindi sono riusciti poi a riportarla in porto per poi ovviamente fare degli accertamenti sull'unità. La cosa importante è che tutti gli interessati stanno bene? Questa è assolutamente la cosa più importante, ovviamente essendo noi responsabili della vita umana in mare, il primo pensiero, il primo intervento immediato dei miei uomini che appunto hanno requisito dell'unità di porto che si trovavano presso l'ente porto di Giulianova è stata quella proprio di salvare le persone coinvolte. C'erano due bambine, una di 11 che sapeva comunque nuotare, l'altra di 5 che era un po' più in difficoltà, ma comunque essendo col papà che prontamente aveva azionato una zatta di salvataggio, non ci sono state situazioni di pericolo per la loro incolumità, infatti non hanno neanche richiesto l'assistenza dell'ambulanza che era comunque stata fatta arrivare in porto per eventuali cure del caso, quindi per fortuna una storia a lieto fine.